Una data storica, quella del 29 dicembre 2014. A Pescara cade un muro, quello che da sempre ha diviso le officine di Arpa e GTM, due delle tre società di trasporto che oggi si fondono in una sola azienda. È stato uno dei primi provvedimenti del governo firmato Luciano D'Alfonso. Di sicuro è una giornata carica di significato perché assume anche il valore di un emblema. Il lavoro che abbiamo fatto per portare a convergenza, a pressione, a superamento della condizione precedente. Quindi io sono qui per ringraziare e per assistere al nascituro. Pochi mesi per gettare un colpo di spugna a 20 anni di politica abruzzese. Questo il commento che da tempo ripetono i rappresentanti della giunta regionale. Avevamo detto quando vivevamo il tempo noi dell'opposizione e quando siamo andati in maggioranza non hanno vinto per noi la difesa degli sgabelli, dei poltroni, delle nomine, ma la riforma. Hanno vinto le riforme, ha vinto la riforma che l'Abruzzo aspettava. Quel muro è la cosa forse più odiosa nella storia dei trasporti abruzzesi perché è un muro che divideva due officine, entrambe finanziate con i soldi della regione ma che non creavano nessuna sinergia, nessuna economia, ma solo delle distinte gestioni. Oggi noi abbattiamo simbolicamente quel muro e dietro quel muro si trascina dietro anche la vecchia politica che non ha consentito di fare ciò che andava fatto molto tempo prima.